Ieri c'è stato un piccolo intoppo a questa rincorsa, però la voglia di riscatto è alta e come è stato detto più volte ieri la squadra ha messo il cuore, il gruppo ha messo il tutto perché ha provato a vincere comunque la partita e quindi questa è una dimostrazione che fino in fondo daremo battaglia. Ma sì, purtroppo sono serate che possono capitare, è chiaro che pesano perché siamo alla fine e ogni partita è vietato sbagliare e quindi i punti sono sempre più pesanti. Poi è il secondo pareggio consecutivo dopo quello di Cesena dove meritavamo in pieno la vittoria e magari se fosse venuta anche il pareggio di ieri in una serata, magari non come le altre, poteva essere più dolce oggi. Però la squadra, nonostante la serata storta, ha avuto due o tre palle per poterla vincere quindi non ci siamo resi, abbiamo trovato difficoltà ma credo che non ci sia neanche più tempo di pensare a quello che è stato ma a quello che dovremmo andare ad affrontare perché lunedì si rigioca già col Brescia, un'altra gara difficile e dove sono in paio punti ancora più pesanti perché le partite sono sempre meno. Insomma l'occasione di rifarsi è dietro l'angolo e speriamo di essere una location del genere a fine anno per brindare qualcosa di importante. Ma sì, intanto pensiamo a fare quello che dobbiamo fare in campo e a raggiungere gli obiettivi come ho detto prima che siamo perfissati poi dopo magari ci si verrà volentieri ma adesso la cosa più importante è essere concentrati sul proprio lavoro e rendere al meglio da quella fine. Grazie Cech.